Ciao, benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini! Oggi ho qui qualcosa di un po' schifoso. Non so se tra voi ci sia qualcuno che odia i topi, ma ho proprio dei topi! Dei topi gelatinosi! Tra l'altro poi di questo colore verdino! Che schifo! Sembrano veramente quelli che vivono nelle fogne! Che non vorremmo mai vedere! Poi con questi occhietti rossi, guardate! Tieni di sangue, sembrerebbe! Diciamo che non sono proprio amichevoli, come dire! Ve li presento, sono in diverse forme e lunghezze. Vedete che questi occhi, vi giuro, mi spaventano un po', eh? Tutti rossi così, mamma mia! Sembra che ti vogliono fare del male! Beh, comunque sono super elastici, come potete vedere! Sono di gelatina e secondo me si illuminano anche al buio, perché questo colore verdino nasconde qualche cosa, qualche segreto, cosa dite voi? Secondo me si illuminano al buio. Comunque hanno questa codina, no? Simpaticina! Vedete? Adesso lo allungo. Ma qua non si rompe! Caspita quanto si allunga, ragazzi! Wow! Carini! Proviamo a romperli. Oh, non si rompono! Oh, non si rompono! No, vabbè! No, vabbè, ci riprovo, ragazzi! Ci riprovo! Uno, due, uno, due... No! Niente, ragazzi! Assurdo! Resistentissimi! Wow! Beh, comunque questo muso non mi piace, mi sa di quei pesci che spazzano i fondali marini anche. Cosa dite voi, bu? Vabbè, ditemelo nei commenti! Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto per rimanere a seguirci su tutte le nostre novità. Dateci un like se il video vi è piaciuto e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima, no? Rimanete con noi! Ciao!